E' stata denominata decima primavera l'operazione della squadra mobile della questura di Brindisi che ha eseguito in tutta Italia 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ha smantellato un'organizzazione di trafficanti di sigarette. Gli arresti sono stati eseguiti a Brindisi, Taranto, Bari, Napoli e Padova. I segnali di una ripresa del contrabbando di tabacchi, secondo gli investigatori, erano evidenti già da tempo. I provvedimenti sono stati chiesti dal PM della DIA Salentina, Giorgio Lino Bruno, ed emessi dal GIP del Tribunale di Lecce. L'organizzazione, secondo gli inquirenti, utilizzava mezzi pesanti provenienti dalla Romania, che dopo aver attraversato i balichi a nord-est, rifornivano il mercato pugliese e campano. Le sigarette venivano stoccate in capannone di proprietà di persone ritenute insospettabili. L'operazione è stata denominata decima primavera per celebrare il decimo anniversario dell'operazione primavera attraverso la quale lo Stato anniettò il fenomeno del contrabbando. Il cuore dell'organizzazione agiva nella parte nord della provincia di Brindisi, con un ruolo attivo di personaggi storici del contrabbando brindisino e barese.